Siamo ormai arrivati al termine della regular season 2022 e ancora una volta tempo di recap, tempo di pagelloni. Ancora una volta però, non sono solo, ai microfoni Matthew Thorgard in compagnia di... Puma Z, buonasera a tutti. Puma Z che ritorna dopo che abbiamo fatto la prima parte per quanto riguarda il pagellone MLB per l'All-Star Game. Adesso i giochi sono fatti e quindi finalmente possiamo fare il nostro bilancio definitivo. Sarà peraltro divertente vedere cosa avevamo detto praticamente due mesi fa perché molte cose sono cambiate. Assolutamente, io me lo sono riguardato tra l'altro il video che avevamo fatto appunto tre mesi fa e abbiamo detto di quelle cose, sarà interessante sviluppare i discorsi quest'oggi. Esatto, anche voi ragazzi che guarderete mai questo video fate la comparativa e poi venite sotto nella sezione commenti a dirci cosa avevate previsto, come è mutato il vostro tabellone. Insomma, è un bel periodo per parlare di baseball e partiamo con il mega recappone. Premessa importante, prima di cominciare, non siamo giornalisti, siamo semplicemente dei tifosi appassionati di baseball, quindi tutto quello che diremo sarà usato contro di noi perché sono opinioni personali e basta. Non siamo per nessuna testata giornalista, siamo indipendenti, diciamo così. Seconda premessa fondamentale, questa è la versione estesa, ma lunedì cosa ci sarà sul canale di Christian? Puma Z? Ci sarà la mia solita versione tagliata, tagliuzzata, compressa e sarà sostanzialmente la stessa cosa di oggi, semplicemente molto più breve. Comunque la versione completa la trovate sul canale di Matthew Thorgard, la mia sarà semplicemente gli highlights della nostra discussione di oggi. A proposito di highlights, partiamo dalle classifiche della American League East con ovviamente tutti i pronostici e il tabellone playoff già concluso e ovviamente parliamo dei New York Yankees che concludono la stagione, in realtà manca una partita ma di fatto il tabellone playoff è quello, con 99 vittorie e 62 sconfitte. A mio modesto parere, promossi senza se e senza ma. Assolutamente indiscutibile. Certo, c'è stato un piccolo calo da metà stagione verso adesso, però non è stato comunque ininfluente a livello di classifica. Sono stati strepitosi, personaggi incredibili. Aaron Judge ha fatto una stagione incredibile, siamo a 62 fuori campo, credo che è stato l'ultimo aggiornamento di ieri. Ha superato Roger Merris, ha distrutto tutti i record dell'American League, insomma. Esatto. Bravo. E molti dicono anche che sia il record ufficiale, perché noi sappiamo che quelli sopra Aaron Judge sono con l'asterisco, no? Sammy Sosa, Mark McGuire, Barry Bonds. E il buon Barry Bonds. Per ovvi motivi, ecco, insomma, poi tu ne hai anche parlato nel tuo canale di Barry Bonds, quindi sappiamo un po' la storia. Diciamo che, sì, Aaron Judge attualmente da molti viene considerato il re dei fuori campo, proprio per quello che hai detto anche tu. Esatto. E chi sta sopra con l'asterisco. Esatto. In American League comunque nessuno come lui. Così come nessuno come lui, Garrett Cole, perché 275k, cioè parliamone, record di franchigia per gli Yankees. Assolutamente. Pizze e fichi, no? Che dici? Assolutamente. Poi è anche primo a livello della MLB, non c'è nessuno che compie così tanti strikeouts come Cole. E si aggiunge a una lista di partenti veramente incredibile per i New York Yankees, perché ci aggiunge anche per esempio Nestor Cortez, che comunque in non so quanti 40 anni ha raggiunto i risultati più concreti a livello dei Yankees. Cioè hanno una squadra veramente molto molto solida, molto competente per i playoff. Esatto. In seconda posizione dell'American League East troviamo i Toronto Blue Jays, che si sono anche loro qualificati ai playoff come prima wildcard dell'American League. 91 vittorie e 69 sconfitte. Me li aspettavo su questi livelli, quindi io li promuovo. I canadesi erano chiamati forse al primo posto, forse no, ma secondi tutta la vita. Sì, ma anche considerando su come hanno chiuso la stagione precedente, sono finiti quarti, c'è quest'anno comunque secondi, con una stagione veramente strepitosa. Che dire, Vladimir Guerrero, ma quello che a me mi ha colpito di più è il catcher Alejandro Kirk, che oltre ad essere un catcher veramente bravissimo, è un power eater della Madonna. Quindi bravo anche ai Blue Jays, assolutamente promossi anche per me. Terzi, Tampa Bay Rays, che in un modo o nell'altro ai playoff ci arrivano, nonostante una lista di infortuni chilometrica, 86 vittorie e 75 sconfitte. Cioè, col fatto che questi giocano senza mezza squadra da un anno, non si possono non promuovere. Cioè l'American League East, parliamo, è una divisione molto competitiva, forse più di altri anni. Fuori di testa, fuori di testa. Sì, guarda, non ho nient'altro da aggiungere che sappiamo entrambi che a livello di post-season i Rays sono pericolosi, indipendentemente da come svolgono la stagione, però hanno mantenuto il passo, hanno mantenuto il ritmo. In realtà è questo, l'American League East quest'anno era un mantenere il passo e chi lo mollava era fuori dai giochi. Infatti vedremo chi nel corso della stagione poi ha mollato il mazzo e effettivamente non si troverà nei playoff quest'anno. No, a partire da chi è arrivato quarto nell'American League East, ma diciamo che non è una bocciatura, perché i Baltimore Orioles con 82 vinte e 78 perse sono fuori dai playoff, ma io li promuovo perché nessuno, ma nessuno, da noi tifosi a i più addetti ai lavori si aspettavano un rebound così incredibile dopo annate disastrose. Poi questo è il tuo spazio, quindi prego, è tutto tuo. Guarda, non mi dilungo chissà quanto, però comunque vedere gli Orioles che concludono la stagione con un record sopra il 50% è incredibile. Poi è stato veramente bello seguire e fino all'ultimo, tra virgolette, fino a fine settembre più o meno, erano in gara. Se la stavano giocando per uno spot alla wild card, quindi cosa gli vuoi dire? La cosa mi dà comunque anche speranza per il futuro perché tanti giocatori sono giovani, è una delle scuole più giovani della MLB attualmente e hanno giocato bene, i giovani che c'erano hanno veramente reso. Quindi va bene, non è stato quest'anno, anche se fossero arrivati ai playoff, sinceramente sarebbe stato comunque uno spot rubato perché cosa avrebbero potuto aggiungere più di tanto. Però mi dà speranza comunque per gli anni successivi. Sicuramente c'è stata tanta fortuna perché tante partite sono state molto fortunate, però a parte anche questo del gioco. La fortuna aiuta a chi ci prova, no? Poi, ripeto, il core dei Baltimore Orioles è molto giovane ma talentuoso perché Mountcastle, Mullins, Ruchman, insomma... Anderson, Gunnar Anderson, Gunnar... Ho visto gente peggiore, ecco, come core giovane di una squadra. Chi lo sa, il problema è la division perché, sai, anche oggi l'abbiamo visto, tre squadre ai playoff su sei dell'American League sono dell'American League East. Insomma, bisognerebbe fare un bel salto di qualità, però tanta roba, ecco, gli Orioles, no? Sono d'accordo con te. Assolutamente da promuovere quest'anno. Meno tanta roba i Boston Red Sox. Ultimi, fanta ultimi, mi verrebbe da dire, 77-20-84 perse. Prima bocciatura del pagellone senza se, senza ma. Assolutamente sì. Cioè, nel senso, con la line-up, il Rooster che c'hanno, i Red Sox, dovevano assolutamente contendersi lo spazio ai playoff. E invece, già comunque a metà stagione non è che abbiano brillato chissà quanto, hanno completamente lasciato il gas, ritrovandosi ultimi. E sì, mi dispiace, però dovevano fare di più. Con dei battitori come loro dovevano fare di più. Ma con un monte di lancio scarso, ai playoff non ci vai. Infatti, si è visto. È quello. Si è visto. E peccato perché Alex Cora, con tutti i casi che l'hanno coinvolto per, appunto, il caso di se ne ero batte tutto, è un signor manager. L'abbiamo visto più e più volte. Il fatto che l'abbiano richiamato a Boston non è stato un caso, secondo me. Quindi, è un'involuzione in negativo. A proposito di un'involuzione in negativo, passiamo alla American League Central, perché lì le bocciature per me ce ne sono vacante. Non i primi in classifica, non i primi in classifica perché i Cleveland Guardians, anche se, ripeto, faccio sempre una fatica incredibile a chiamarli così, sono i playoff, ragazzi. 91 vittorie, 70 sconfitte, primi. Dieci lode. Dieci lode. Sorpresa dell'anno, secondo me, ai Guardians. Assolutamente sì. Contro ogni previsione è da calcolare che questa è la squadra più giovane della MLB attualmente, che abbiano raggiunto una cosa del genere. È incredibile. È veramente incredibile. Sì, cioè, calcola che è vero che hanno sempre Shane Bieber, che non è il Cy Young del 2020, hanno Tristan McKenzie, che ha fatto molto bene, hanno come unica superstar Osera Mears, che, insomma, tanta roba e il resto, ma sono giocatori giovani, futuribili, che però hanno reso subito e hanno approfittato di scivoloni indicibili e orrendi di Chicago White Sox e Minnesota Twins. Di cui andremo a parlare insieme, secondo me, perché queste, ne parlavamo anche in privato, tra di noi sono bocciature, ma col tre in pagella, secondo me. Sì, assolutamente sì. Allora, spezziamo una lancia magari per i Minnesota Twins, che comunque si sono rialzati da un anno difficile l'anno scorso e comunque a metà stagione era andato molto molto bene, hanno veramente mollato tantissimo. Tanto è vero che tutti praticamente sono avanzati, tutte le squadre hanno dei record migliori, tranne i Twins, il che è peccato, perché avevano veramente, cioè, non è che stavano dominando la divisione a metà stagione, però con gli acquisti che hanno fatto e l'andamento mi aspettavo almeno i play-off. Sì, in una divisione che doveva essere sulla carta dominata dai Chicago White Sox, che concludono al 50% di vittorie, 81-80, però questi partivano per vincere, non dico a 90 vittorie facili, ma giù di lì, con tutto l'organico che hanno. Cioè, è inspiegabile che Chicago non sia i play-off, perché Abreu, Ruiz Robert, me ne dimentico anche tanti altri, però... Sì, ma Anderson, guarda, possiamo fare una lista infinita. È vero che sono stati anche loro un pochettino messi in difficoltà dagli infortuni, però questo... Tante altre squadre lo sono state altrettanto e non è una giustificazione, come abbiamo visto. Ma gli stessi Twins, cioè che anche loro facciate degli infortuni, però, insomma, poi a Chicago sappiamo che ci sono state delle polemiche anche con i manager, Tony La Russa, che peraltro pare si evitiri a fine anno, per poi non mi risalute in realtà, quindi un grosso in bocca al lupo a Tony La Russa, però i White Sox partivano per essere primi e sono secondi. Cioè, è un po' in piccolo quello che è successo a Boston, sostanzialmente, secondo me, o forse in grande, dipende dai punti di vista, ecco. Dipende dai punti di vista, ma sono molto paragonabili, assolutamente sì. Quarti Detroit Tigers, 66 vittorie, 95 sconfitte, ultimi Kansas City Royals, una partita in meno, ma, vabbè, questi qui non giocavano da agosto, praticamente. Sì, no, ma ininfluente, sì. Cosa dire, Detroit Tigers sono stati abbastanza anonimi quest'anno, come ha anche Blattron di Kansas City Royals, però, almeno i Detroit Tigers l'anno scorso hanno dato quel pizzichino di più, erano un pochettino più frizzanti. Quest'anno ho visto veramente poco e niente. Infatti, se mi permetti, vai, 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 scusami. No, no, vai pure, vai pure. Volevo chiudere un attimino con i Royals, dicendo che, appunto, anche loro, chiaramente, essendo ultimi in una stagione non brillante, comunque, c'è stato il mio Bobby Wheat Jr. che ho acclamato all'inizio stagione, che, secondo me, non ha nulla da ricriminare a Julio Rodriguez, che, certo, ci parleremo, arriveremo poi più tardi, ma, comunque, ha fatto i suoi 20 fuoricampi. Sì, assolutamente rookie of the year, indiscusso. Comunque, il mio Bobby ha fatto i suoi 20 fuoricampi, ha rubato le sue 30 basi, ha fatto un 80 di RBIs. È stato bravo, è stato bravo. È stato sicuramente clissato da Julio Rodriguez, però è stato un buon rookie rapper, il buon Bobby Wheat Jr. Sì. Io, appunto, lo facevo sui Tigers perché qualcosina l'anno scorso mi hanno fatto vedere sul finale. Hanno fatto dei buoni acquisti perché due giocatori su tutti, Austin Meadows, Javi Baez. Hanno preso il Mago a una cifra spropositata di soldi e, cioè, non hanno toccato palla, per usare un termine calcistico. Cioè, tremendi. Boccerei più loro per, invece, sdoganare il senza giudizio, i Royals, cioè, lì dovevano essere e lì sono rimasti. Non è che ti aspettavi chissà che... Esattamente. Non c'erano grandi aspettative. La cosa che mi incuriosiva di più era questo grande, questo prospetto, volevo vederlo e ha dato spettacolo, ha fatto quello che doveva fare. American League West. E qua ci divertiamo perché i primi sono i soft Houston Astros. 105 vittorie, 56 scomofitte. Qua già iniziamo a numeri, insomma, che fanno un certo spessore, un certo brivido, diecelode. Cioè, oramai è riduttivo. Li promuoviamo per onor di firma. Gli Houston Astros cominciano a giocare adesso, secondo me. Non sono devastanti. Cioè, se guardi, hanno un potere offensivo e difensivo a livello di lanciatori che è veramente fuori di testa. Cioè, stiamo parlando soltanto di Everlander che ha un'era di... Quant'è che era? 1,75. Ma stiamo scherzando. Ma è niente. Con, non so quante partenze ha fatto. Comunque, a 18 win. E questo è soltanto un pitcher. Per non parlare dei battitori. Alvarez, Altuve, sono tutti fuori di testa. Sono tutti bravissimi. Io li vedo veramente caldi. Pericolosi. Guarda, io con Houston ho visto, giusto ieri, la partita che ha trasmesso Sky Sport contro i Tampa Bay Rays. Giocavano in casa Houston al Minute Maid Park. Houston ha vinto 3-1, ma sembrava letteralmente in controllo dall'inizio alla fine. Cioè, hanno una profondità di roster che questi qui, poi ne parlerò meglio nel mio video di venerdì, non dico partono per arrivare alle finali, ma se c'è una squadra in American League che è numero uno, per me sono questi. Cioè, al di là del fatto dei bidonari, segnali rubati, quello che volete, ma questi sono stati costruiti per giocare a ottobre e batteteli. Cioè, non dico sono imbattibili perché nel baseball non c'è mai nulla di imbattibile. Però, insomma, primo posto di Houston, a sto secondo di Yankees. Quello che è stato nel passato è stato nel passato, adesso guardiamo verso il futuro. Comunque, appunto, come dici te, secondo me sono degli Houston Astros che assolutamente hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo a questi playoff. Esatto. Veramente fino in fondo. Chi, invece, possiamo definire la vera sorpresa, oltre i Cleveland Guardians, sono i Seattle Mariners, che io, allo Stargame, al pagione della prima parte, li ho battezzati dicendo, ragazzi, questi ci fanno ridere e divertire. E infatti sono arrivati, secondo i playoff, con 89 vittorie dopo che l'anno scorso ne ha fatte 90, ragazzi. Tanta roba, finalmente. 21 anni dopo, perché l'ultimo fu nel 2001, i Seattle Mariners sono ai playoff promossi. Bravi. Assolutamente sì. Cosa vuoi dire? Cioè, nel senso, sono andati finalmente ai playoff, meritatissimo. Ammetto che una parte di me ogni tanto sperava che perdessero qualche partita per dare modo e spazio a Baltimore di raggiungere questa wildcard. Non è successo. Va bene così. Sono stati strepitosi. Sicuramente molto spinti da questo Julio Rodriguez, che non tanto rookie of the year, ma è stato veramente un giocatore of the year. Nel senso, adesso, sicuramente non da MVP, però, nel senso, non è stato proprio un bravo rookie, è stato un bravo giocatore. Nel senso, veramente fondamentale per il risultato di questa squadra. Tanta roba, tanta roba. Poi, brava Seattle che nel mercato di riparazione, sempre che usavo un termine calcistico, ha rafforzato ulteriormente un monte di lancio che già non era male, ma Luis Castillo dai Sinsenati Rezzi è stata una signora addizione, insomma. E uno così, ai playoff, una partita che la potrebbe anche fare vincere, calcolando che adesso i playoff sono con un format particolare, ma venerdì poi ne parleremo nel mio video singolo. Invece, andando alle classifiche più giù, un'altra bocciatura, secondo me, sono i Los Angeles Angels o Vanaheim, che anche oggi non sono i playoff per il ventordicesimo anno consecutivo, nonostante i nostri, credo, due idoli incontrastati, Otani Shohei e Mike Trout. Cosa vuoi dire? Cioè, nel senso, è stata una stagione imbarazzante, ma anche perché a un certo punto sono stati penultimi e io ho pensato che Oakland avrebbe avuto la possibilità di superarli e arrivare ultimi. Alla fine si sono un pochettino ripreso, ma un record così non lo giustifica mai due MVP come Mike Trout e Shohei Otani, che hanno avuto, peraltro, anche una stagione incredibile. Cioè, Otani, secondo me, si brucia il suo MVP award perché i Los Angeles Angels sono andati male. Perché, se mettiamo su dei piani Otani e Judge, so che entro in un terreno molto pericoloso di discussione, però Otani ha fatto veramente molto bene. È stato messo sotto ombra da Judge, che ha fatto una stagione incredibile, e dai New York Yankees, che stanno andando fortissimi. Se magari gli Angels fossero stati altrettanto competitivi, si sarebbe visto, come dire, Otani con altri occhi. Molto penalizzato, secondo me, proprio dall'andamento della squadra. Mi dispiace tantissimo perché meriterebbe molto di più. Oh, per me Otani lo potrebbe vincere lo stesso, è l'MVP, perché si guarda le prestazioni individuali, non le prestazioni di squadra. Certo, certo, certo. Certo che il 62esimo di Judge, che peraltro è sempre in lista per la tripla corona, che ecco, diciamo che se Judge vincesse la tripla corona, l'MVP è lui senza se e senza ma. Non la vincesse, c'è ballottaggio, secondo me, tra il giapponese e il trentenne americano. Sarà una decisione, sì, soggettiva a un certo punto di vista, perché lì devi veramente mettere su due piani cosa arrende di più. 62 fuori campo o l'incredibile bivalenza di Shoah Yotani che riesce a fare benissimo sia il battitore che il lanciatore. Non lo so, non lo so. Va detto però che come rendetto per Boston, senza Monti di Lancio non si va da nessuna parte. Assolutamente, sì. Stesso discorso si può fare un po' per i Texas Rangers, che l'abbiamo fatto un po' per Detroit, no? Cioè, sono due squadre che hanno investito un sacco di soldi, Texas Rangers hanno investito 500 dollari, i milioni di dollari sul mercato estivo, investivo, invernale, vabbè, ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Ok? Per un record ricchissimo di 67 vittorie e 94 sconfitte. Cioè, battono Oakland, ma perché Oakland sono dei derelitti, con tutto il rispetto per i tifosi dell'Atletics all'ascolto, ma, cioè, insomma, Rangers, Oakland e Texas sono da bocciare quest'anno. Texas in particolare, perché tu hai Corey Seager, hai Marcus Simeon, hai Martin Perez, che è un signor lanciatore. Garcia, no, ce ne sono comunque di personaggi che avrebbero dovuto portare questi Rangers un pochettino più in alto ed effettivamente hanno avuto anche un crollo da metà stagione in avanti, perché stavano razzentando il 50% della metà stagione e sono ben al di sotto. adesso alla fine, quindi... È vero che ad Arlington dicono che l'anno prossimo, il 2023, sarà il loro ritorno, no? Però, sai, insomma, con questi Astros, con questi Mariners, se gli Rangers si svegliano diventa un macello sta divisione l'anno prossimo, ma... Diventa veramente un bordello, sì. Oakland, l'abbiamo già detto prima, invece sono dei derelitti, poveretti, sono quelli che sono rimasti, ne hanno vinto 59, ne hanno perso 102, vabbè, non li bocciamo per pietà, senza giudizio, perché sappiamo la situazione com'è a Oakland, cioè che a momenti li rimettono da qualche altra parte, ecco. Perso anche qualche pezzettino a metà stagione con, per esempio, Frankie Montas che è passato ai Yankees e quindi sì, sicuramente ci sarà da investire per il prossimo anno. E adesso passiamo al secondo macello di giornata, la National League East, è qua, l'abbiamo detto più volte in questo video, si ride molto. Per il quinto anno consecutivo di Atlanta Braves sono vincitori di divisione e da tifoso Mets dico meritatamente, meritatamente perché da tifoso Mets non puoi buttare nel cesso 10 partiti di vantaggio a metà stagione, ma infortuni e mancanze varie ci possono stare, però tanta roba, a tanta Braves ragazzi, cioè sono i campioni in carica, vogliono difendere il titolo e che segnale è andato alle altre squadre, cioè gran comeback io li promuove i Braves, nonostante appunto abbiano scippato ai miei Mets di titolo di divisione. Guarda, sì, è stata una rimonta incredibile e penso che soprattutto nella series recente, un sweep totale da parte dei Braves sui Mets, hanno messo abbastanza in chiaro su chi sta comandando in questa divisione e stare attenti anche a livello di playoff. Gli Atlanta Braves sono stati incredibili e poi hanno anche, secondo me, all'interno il rookie of the years sarà o l'Atalanta Braves o l'Atalanta Braves, perché o sarà Spencer, Spencer Strider, oppure sarà Harrison, secondo me, però... Michael Harris, può essere. Michael Harris, scusami, non è Harrison. Michael Harris, sì. Kyle Wright non so se sia rookie, però, come elegibilità, penso di no perché ha fatto l'anno scorso. Non credo sia rookie, Kyle Wright, però... I due nomi sono giusti. Sì, sì, sì. Ad ogni modo una stagione veramente... Sì. Chapeau, soprattutto per come erano posizionati a metà stagione. No, ma non vuol dire niente. Cioè, noi gli Atlanta Braves l'anno scorso avevamo visti dove erano, erano fanta ultimi praticamente, o giù di lì, nella National League East e hanno vinto il titolo. Con un mercato di luglio clamoroso e hanno appuntellato dove doveva appuntellare. Kyle Wright, per tornare al mio giocatore di prima, cioè, 20 vittorie in stagione, di fatto ha un semi esordiente perché ha fatto l'anno scorso, ha fatto forse poco 2020. Insomma, per essere uno giovane, le prime armi, tra virgolette, vuol dire che di talento il ragazzo ne ha. Porca miseria, assolutamente. Quello che io temevo è vederli crollare andando via Freeman, no? Pensato magari... Invece no, ma assolutamente ininfluente. C'è talmente tanta sostanza in questa squadra che non l'hanno neanche percepito. No, no, no. Una profondità di roster incredibile. Così come i miei New York Mets che, 100 vinte in stagione, quarta volta nella franchigia che succede, si arriva a secondi per una partita di distacco. Che vuol dire playoff dopo il 2015? Sì. Io faccio fatica ad avere un giudizio, ma perché sono di parte. Quindi, cioè, il tifoso direbbe, porca miseria, bocciati, perché... Ecco, io in realtà li promuovo perché una stagione del genere io non l'ho mai vista neanche nel 2015 quando li ho visti dal vivo giocare una volta al City Field e hanno fatto veramente tanta roba. Han trovato una squadra che è a pari livello, perché secondo me Mets e Braves sono pari, senza se e senza ma. Ma diciamo che gli investimenti di Coen si vedono, ecco, 120 al primo vero anno di presidenza vuol dire che i Mets ci sono, se non quest'anno il prossimo. Però intanto siamo ai playoff dopo sette anni. No, ma è certo, ma assolutamente. Ma è stata una prestazione, un anno comunque di tutto rispetto per i New York Mets. Ti lascio comunque esprimerti te al riguardo che ne saprai sicuramente molto più di me. Però nel senso hanno veramente anche loro tutte le carte in regola per andare bene a questi playoff, sono un pochettino inciampati in queste ultime settimane, però nulla vuol dire effettivamente. Sì, diciamo che abbiamo pagato un po' di infortuni qui e lì, soprattutto ultimamente quello di Starling Martè, che è un esperto esterno di difesa e anche un segnale attaccante, quindi quello ha inciso tanto. Però comunque il roster è molto buono, da passaggio del primo turno secondo me. Il problema, spoiler, è che i Mets sono dalla parte dei Dodgers nel tabellone playoff. Quindi le division series, qualora dovessero andare avanti, potrebbero essere Mets-Dodgers. E lì io non li vedo favoriti i Mets contro i Dodgers. Però, insomma, se il cuore è quello, io sono fiducioso. Poi, ripeto, nel baseball sappiamo che può succedere di tutto. I Nationals hanno metto il titolo in modo improbabile. Gli Atlanta Braves l'anno scorso hanno fatto il miracolo. Chi ha fatto il miracolo, secondo me, è la terza squadra classificata nella National League East. E questo è un po' un tuo spazio. Il Philadelphia-Fiddles, altra squadra che mancava ai playoff da una vita. E ci sono tornati, ragazzi. Tantissima roba anche il Philadelphia-Fiddles. Undici anni. Undici anni di assenza dalla post-season. Sì, io simpatizzo il Philadelphia-Fiddles. Chiaramente non sono un grande esperto, però sono andati bene. E anche loro, secondo me, hanno le carte in regola, sia da un punto di vista di lanciatori. Hanno Zach Wheeler, Aaron Nola, Gibson. Adesso hanno pure acquistato Sindergaard, il tuo beniammino. Quello c'è. Anche da un punto di vista offensivo, ci sono... Schwarber. Come? Schwarber, dal punto di vista offensivo abbiamo visto che è esploso. È tornato quello di Chicago, Kyle Schwarber. Schwarber, assolutamente sì. Ah, Schwarber, scusa, mi avevo capito Bryce Harper. No, Schwarber. No, 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 c'è anche Bryce Harper, però Schwarber... No, Schwarber ha assolutamente tirato in avanti la squadra. Harper è stato più che altro infortunato, anche poverino, per la maggior parte della stagione. Comunque, Philly meritatissimi play-off e gli auguro tutto il bene per fare bene, per andare più in fondo possibile. Chi invece non andrà ai play-off saranno i Miami Marlins, che sono quarti a 68 vinte e 93 perse. Selvian Cantara solo al comando e poco altro. È mancato Jets Chisholm, però non mi aspettavo niente di diverso dai Miami Marlins, solestamente. Io non li boccio, non li promuovo senza giudizio, stanno un po' del limbo, ecco. No, assolutamente quello che hai detto tu. La mancanza di Chisholm, secondo me, è stata assolutamente influente, però non so quanto avrebbe effettivamente cambiato la situazione. Anche se è vero che un giocatore può fare veramente la differenza, come vedremo poi più in là. Allora, però cosa dirti, John Bertie, il primo posto a livello di stolen bases, rimane lui. Rimane lui. Fanculo a tutti, rimane John Bertie. Lo era all'All-Star Game, lo è rimasto anche quest'anno. E vai John. È lui, è lui. Quello che resta dei Washington Nationals, passiamo oltre, dovevano essere lì, sono rimasti lì, che devi dire. L'ombra del 2019, ormai, poi passando via con, andando via anche sotto, è proprio stata la fine. È stata la fine, già erano andati maluccio a metà stagione, hanno avuto un crollo ulteriore, turbo ultimissime. Sì. National League Central, che un po' assomiglia all'American League, se ci fai caso, no? È una MLB molto speculare, perché a Est tre squadre in playoff, al centro una squadra per division, a Ovest 2. L'unica squadra che è andata ai playoff nella center della National League sono i St. Louis Cardinals, che per la storia del baseball è veramente una roba molto affascinante, secondo me. Bravissimi, promossi, con 93 vinte e 68 persi. È stata una bellissima stagione, con dei bellissimi momenti all'interno di questa stagione, pensando a Albert Pujol, che non solo ha raggiunto i 700, ma non si sta neanche fermando qui. 703. 703 attualmente. E se la stavano giocando, comunque a metà stagione non era così scontato che arrivasse al primo posto, invece adesso comunque hanno assolutamente dimostrato. Anche perché, magari appunto come vedremo dopo, Milwaukee non è che ha avuto questo granché da offrire. Hanno dato via Josh Eider, a livello di battitori c'è soltanto Jelic, che ha veramente un forte potenziale offensivo, ma dalla seconda metà stagione anche lui è calato parecchio. Hanno sofferto, secondo me, i Brewers e San Luis Cardinals hanno assolutamente approfittato di questa situazione. Cardinals, che comunque sono una squadra di grandi veterani, perché se ci pensi della stessa squadra, ci abbiamo Albert Pujols, Jadier Molina e Adam Wainwright, no? Tutta gente che quest'anno si ritira. E come ultimo anno, vederle ai play-off dopo abbastanza tempo, perché ok, la stagione è allargata 2020, però i Cardinals, ricordiamo, sono la seconda squadra più trattata della stagione del gioco, quindi non sono proprio pizze e i figli. Gli arrivati. Peraltro, nota di colore, Jadier Molina allenerà a Porto Rico al Classic a marzo. Dai! Cosa molto sì, ti do sta perla. Esatto, Porto Rico che ha annunciato anche Marcus Stroman, che lancerà per loro, insomma. Sarà un bel Classic, ma ne parleremo in primavera. Milwaukee, ecco, Milwaukee io la boccio, per i motivi che hai detto tu. Sono implosi. Scusa se ti ho anticipato, però sì, assolutamente è un'implosione totale, con anche scelte di mercato, secondo me, sbagliate, se mi permette il termine, perché io Header e i Padres non glielo avrei dato. Però ecco, sì, il risultato è stato questo. Niente play-off. No, nonostante un record di 86 vinte e 75 perse, che insomma abbiamo visto in altre division, vuol dire essere in zona play-off, vuol dire comunque esserci di peso. Sulla scelta di Header, a posteriori poi ho capito perché l'han ceduto con lo scambio alla pari con Taylor Rodgers, peraltro impatto clamoroso al contrario, però anche di Taylor Rodgers, non voleva rinnovare il contratto Header, quindi anziché perderlo a zero, hanno fatto lo scambio alla pari con un altro closer che in realtà non ha reso quanto doveva rendere, infatti il closer dei Milwaukee Brewers è Devin Williams, che comunque è un signor rilievo, secondo me, però paga molto quello. Milwaukee, la cartina di tornasole, è stata la partita persa con Miami, credo qualche giorno fa, per 2-1. Non sono riusciti a battere con una squadra che da luglio non è praticamente più una contender, ma non l'è mai stata forse Miami. No, sono d'accordo con te, che poi appunto anche a livello di partenti, comunque c'è Woodruff, hanno avuto anche loro comunque dei problemi da questo punto di vista a livello di bullpen, però ecco, il risultato è stato questo. Nella terra di nessuno invece poi abbiamo i Chicago Cubs, 73 vinte, 88 persi, i Cincinnati Reds, 62 vinte, 99 perse, Pittsburgh Pirates, 61 vinte, 100 perse. Ovviamente sono tutte statistiche che riguardano 161 partite, perché ne manca una, ma i giochi sono belli che fatti, quindi per quello. Sono tre squadre che, non dico, le boccerei tutte, però possiamo dire senza giudizio, per vari motivi, ecco. Sì, no, ma assolutamente. I Cubs non sono più i Cubs dell'anno scorso, di due anni fa, Cincinnati Reds, anzi, comunque per come sono partiti a metà stagione, si sono un attimino alzati, si sono pure portati in seconda posizione. Non ho veramente gran che da dire su tutti e tre, salvo magari su Pittsburgh, Pirates, visto che tu sai che io ho sempre un occhiettino sui giovani che mi piacciono moltissimo, e qua ti dico, O'Neill Cruz mi è piaciuto veramente particolarmente, ha deputato in realtà già l'anno scorso, ma quest'anno è veramente fiorito, ha colpito una palla che ha viaggiato a 197 km orari, che è la palla più violentemente colpita da quando c'è l'era della Stratcast, che calcola queste cose, quindi un ragazzo che ha sicuramente un futuro, rosio davanti a sé. Sono tutte squadre diciamo in ricostruzione, quelli che hanno fatto vedere qualcosa in più sono i Cubs, però secondo me ci vuole qualche anno ancora, a meno che non li vendano tutti come hanno fatto, per i Cubs il prossimo che vendono secondo me è Contre Eras perché è l'unico rimasto, mi aspetto di vedere da un'altra parte secondo me il prossimo inverno, le altre squadre hanno molti giovani e quindi ci vuole tempo, ecco. Chi invece secondo me ha fretta di vincere sono i primi della National League West, che hanno fatto una stagione come dire sotto tono, 110 vinte, 51 perse, i Los Angeles Dodgers di cui tu porti il cappellino tra l'altro. Se ho dato 10 elode a Braves e alle altre squadre tipo Houston, questi hanno preso 10 elode con la menzione, record di franchigia, una regular season pazzesca, non hanno punti deboli nemmeno questi come gli Astros, cioè, boh, che devi dire? Allora, quello che mi viene da dire appunto sui Dodgers sicuramente la parte vincente, la forza dei Dodgers è il tridente iniziale della line-up composto da Betts, Freeman e Tria Turner che fanno semplicemente girare la palla e entrano subito nelle basi e hanno fatto un casino di runs veramente, tutto questo supportato dai pitcher con le palle, i Dodgers li vedo veramente candidati alla World Series. E gli manca anche Walker Bueller tra l'altro, Walker Bueller non giocherà, perché è rotto da un po', quindi se non hanno dovuto un attimo, anche loro hanno avuto un po' di problemi così. Piccola parentesi, i Dodgers come numero 9 hanno Cody Bellinger. Ok. L'ultimo in battuta dei Dodgers è Cody Bellinger, cioè, capisci che è il punto? Penso te. San Diego Padres, 89 vittorie, 62 perse, potremmo chiamarli le figurine panini, visto che hanno preso chiunque, stavano per buttarli via pure loro ai playoff, in qualche modo se la sono cavata, per disgrazia altrui anche, ci sono e affronteranno i Mets al primo turno di playoff. Li promuoviamo perché San Diego devono essere lì, secondo me sono stati bravi a battere i diretti rivali dei Giants, non potevano competere con i Dodgers, in una stagione comunque senza Tatis, che è un po' la spina nel fianco quest'anno dei Padres. Sì, senza Tatis, valorizzato però Machado, perché Manny Machado ha fatto una stagione incredibile e se i San Diego Padres sono secondi è grazie a Machado. Per me è anche un candidato alla MVP della National League, perché lascia stare Paul Colchmidt che ha fatto una stagione della Madonna, però se veramente prendiamo in analisi cosa è un MVP, deve avere il maggior valore, un giocatore con il maggior valore, allora in questo caso io per quanto non sia un grande fan dei Padres, però Manny Machado ha preso per la manina i Padres e li ha portati al secondo posto, perché comunque Soto da quando è stato trasferito non è che abbia fatto granché di cose. Tatis ha deciso di farsi sospendere e quindi era tutto sulle spalle del buon Machado. Joe Shader, non ne parliamo, perché da quando è arrivato a San Diego e il mio fanta baseball ne sa qualcosa, ha perso partite su partite, insomma, porca miseria, eppure abbiamo gridato al miracolo quando è andato allo scambio, diciamo minchia, già questi qua sono forti, con Joe Shader in più, secondi, tranquilli, oddio tranquilli mica tanto. No no, tranquilli mica tanto, Giants erano comunque dietro, non c'è stata mai una vera competizione in realtà, perché comunque se la sono sempre giocati tra i Dodgers e i Padres sorpassandosi nella prima metà stagione, poi hanno preso la lunga i Dodgers nella seconda parte. Diciamo che la vera lotta era con i Brewers, che poi sono implosi e quindi era molto più quella la lotta che all'interno della Division. Division che vede i bocciati San Francisco Giants terzi, che bene che vada, si vincono stasera, vanno al 50% pulito, però sono capito da bocciare, secondo me. Pensiamo che l'anno scorso hanno chiuso al 66% primi e sono da bocciare. Ti dico la verità, quest'anno è probabilmente una delle franchigie che ho seguito di meno, quindi non saprei dirti più di quel tanto, però si è sentito e si è visto poco e penso proprio le prestazioni sono anche il motivo di questo. Sì, diciamo che non hanno reso molti lanciatori come l'anno scorso, vedi Logan Webb, vedi anche Carlos Rodon, Carlos Rodon in realtà ha fatto bene, però è stato l'unico alla fine, è mancato l'attacco, sono mancate tante cose, questi qui l'anno scorso ne ha vinto 107, ne vanno per vincere l'81esima quest'anno, è un gap troppo evidente, ma i Savosicadatta sappiamo che sono altanenanti, anche quando fecero la dinastia del 10-12-14, un anno bene, un anno male, un anno male, un anno male, questo era l'anno male. Quest'anno era l'anno del no, l'anno prossimo sarà quello così. Esatto, senza giudizio, secondo me, le ultime due squadre di cui andiamo a parlare, Arizona di Bex e Colorado Ortis, 73 vinte una, 68 gli altri. Ma sai cosa, ma nel senso hanno fatto comunque una stagione molto dignitosa per essere due squadre che sulla carta non è che avevano da offrire granché, in particolare i D-backs molto molto spinti dal mio omonimo Walker, Christian Walker, che è l'uomo cadina assolutamente dei D-backs che gli ha spinti in avanti. Chiaro, quarti con un record comunque vicente, nel senso non è che hanno fatto schifo come l'anno scorso. No, cioè calcola che Arizona, per dire fosse nella Central, sarebbe terza, non quarta. Sì, appunto, appunto, appunto. Dignitoso, dignitosi anche i Colorado Rockies, cioè senza infamia, senza lode, niente di che. L'unica cosa che mi è rimasto impresso di loro è stato Kron, che sempre a livello di StatCast l'ha sparata più lontano di tutti, adesso non mi ricordo esattamente quanti Credo fosse 499 piedi, potrei sbagliare, ma una roba del genere. Non mi ricordo, però mi è rimasto impresso questa cosa qua, l'unica cosa che mi ricordo dei Colorado Rockies di questa seconda metà stagione. Due menzioni in particolare per quanto riguarda queste due squadre. Bella per Chris Brown, che è andato a marcire ai Colorado Rockies, e Arizona di Bex, Zach Gallen. Sì. Zach Gallen. Il mio Fanta Baseball ringrazia perché mi ha salvato una marea di partite, ma Zach Gallen, ragazzi, si è ritrovato dopo due anni un po' deludenti, un po' così. Mi aspettavo che tornasse perché il ragazzo ha talento ne ha, e l'ha dimostrato, peccato che giochi per i di Bex, ecco. È così, mi dispiace. Esatto. Quindi, la panoramica è questa. Sappiamo che i playoff partono già questo venerdì, Sky Sport offrirà peraltro una partita al giorno con il commento italiano, quindi per me tanta roba. Ci sarà anche, credo, l'offerta di MBTV, adesso poi tu hai fatto il video su chi può usufruire dei vari servizi, se non sbaglio, quindi il servizio sarà molto bello e interessante. Sarà un mese di fuoco, secondo me. Posso dire, piccolo spoiler per i video di venerdì, se c'è una finale scritta è Dodgers-Houston. Se ce n'è una scritta sulla carta. Guarda, me la sento anch'io, me la sento anch'io. Non so se Houston... Sarà difficile, io non saprei tra Houston e Yankees effettivamente, però penso anch'io che andrà a finire così. Dovesse succedere Houston e Yankees va alla settima. Non vedo altre soluzioni. No, sarebbe stupendo. Sì, sì, intendo come semifinale. National League non ho dubbi, non ho dubbi sui Dodgers, assolutamente. Il paginone è finito anche quest'anno, quindi a tutti gli utenti che mai guarderanno questo video, fate di nuovo il confronto tra quello che abbiamo detto due o tre mesi fa e questo nuovo episodio di ottobre. Piccola programmazione per il mio canale. Venerdì, ore 19, il mio tabellone personale con la posizione di tutti i playoff come tutti gli anni, quindi lì, al corretto e numerosi, ci sarà poi un video ogni fine turno, fino in fondo alle World Series, che finiranno a inizio novembre, qualora dovessero arrivare alla settima partita. Quindi, niente, io sono carico per i playoff e spero che lo sia anche te, sinceramente. Ma assolutamente, guarda, me li goderò molto molto volentieri, spero più di quanto mi sia goduto questa regular season, che comunque con tutti gli impegni lavorativi e di vita quotidiana non è sempre facile, però ne varrà la pena. Niente, quindi siamo arrivati in chiusura, quindi è tempo dei saluti, quindi grazie Puma per essere stato con me ancora una volta. Grazie a te, è veramente molto molto piacere di essere stato qui. Quindi, il saluto ancora una volta da parte di Matthew Thorgard e da parte di... Puma Z, alla prossima. Ciao.